Salve amici, oggi è il lunedì 18 gennaio 2010 ed oggi una giornata finalmente con un pizzico di sole riprendo le mie conversazioni online per il nuovo anno, innanzitutto devo ringraziare un carissimo ragazzo, un giovane di 26 anni il quale mi ha scritto una lunga email molto gratificante per chi fa questi interventi online come me e che conclude grazie per la sua presenza nel web e continui così perché la seguirò e non sono il solo. Caro Marco, io ti ringrazio molto di questo tuo complimento che mi dà lo stimolo a continuare. Anno nuovo però voglio cominciare con una storia vecchia, una storia che chi mi segue attentamente conosce già da tempo e quella della famosa truffa Espotur On Loose che ha coinvolto a quanto si sappia sino ad ora 11 case editrici ma molto probabilmente sono molte di più perché come si sa questo è un paese in cui chi è stato in qualche modo gabbato, sconfitto non vuole mai ammettere le proprie sconfitte, comunque esistono siamo 11 case editrici che si sono dichiarate truffate da questa pseudo associazione, questa On Loose che si è rivelata inesistente che si chiama Espotur che ha dichiarato di avere una sede a Cotronei in provincia di di Crotone in via 1 maggio al numero 15 dove a questo indirizzo 11 case editrici hanno mandato attraverso spedizionieri rinomati nazionali ben vari bancali di libri, non scatole bancali di libri, quindi un materiale piuttosto sostanzioso che agli spedizionieri risulta essere stato regolarmente ritirato, però al numero 15 di viale 1 maggio a Cotronei non esiste alcuna Espotur o Lus e a quanto mi si dice non esiste alcun magazzino, quindi è una cosa un po' paradossale che degli spedizionieri abbiano consegnato della merce ad un indirizzo dove improvvisamente con qualche fenomeno da film di fantascienza sono scomparsi dei bancali di libri e della quale situazione non si sa assolutamente nulla, nonostante che ciascuna delle case editrici truffate abbia fatto la sua regolare denuncia alle autorità competenti e io non so neanche nulla dal sindaco Mario Scavelli di Cotronei che all'inizio di queste mie denunce aveva manifestato tanta solidarietà e tanta partecipazione, poi non ho saputo più nulla, certo la cosa è paradossale, 11 case editrici mangano camion con bancali di libri, degli spedizionieri li consegnano, evidentemente hanno trovato qualcuno che li ritirava in viale 1 maggio al numero 15, dopodiché io per aver fatto questi video ricevo addirittura delle sms e delle mail anche piuttosto minacciose da questa pseudo espoturo on loose, la quale aveva aperto, magari a questo punto l'avrà chiuso, un account su libero.it, comunque le autorità competenti andando nel back office possono entrare nei segreti di libero.it, potrebbero tirare fuori nome, cognome e indirizzo di chi ha aperto questo account, insomma ci sono delle cose veramente paradossali, il fatto sta che siamo al 18 gennaio del 2010, non ne sappiamo niente, praticamente ci sono stati dei furbeti che hanno truffato, hanno preso materiale di libri da varie case editrici per almeno 100.000 euro o giù di lì, poi magari non si sa che cosa ne abbiano fatto, il mio sospetto è che poi sotto mentite spoglie di qualche realtà all'apparenza molto corretta, tutti questi libri poi siano stati rivenduti profumatamente a delle amministrazioni pubbliche, magari anche alla regione Chilabria, chissà chi indaga potrebbe farci sapere qualche cosa. Comunque è chiaro che all'inizio dell'anno io auguro buon anno veramente a tutti, però certamente non auguro buon anno a chi si è spacciato di essere una Expo Tour con sede in via primo maggio numero 15 a Cotronei. Attendo notizie se qualcuno di voi cari lettori che guardate i miei video sapete qualcosa o avete la possibilità di stimolare le autorità locali a scoprire questa paradossale storia che ha truffato ben 11 case editrici italiane. Alla prossima, arrivederci.